I prezzi più bassi nel Catano Motto L'alternanza scuola-lavoro è interessantissimo perché è importante che si progredisca anche nel dare delle possibilità di più di studenti che funzionano sempre soltanto i classi scelte, corsi di rinvastare, bravi, piaciuto, bravi Sicuramente la certificazione British Council per quindi l'accreditamento di tutta una serie di procedure a tutela dei ragazzi e dei leader Poi senz'altro anche la possibilità di fare formazione ai docenti durante la vacanza studio La conversation room per intensificare i rapporti one to one tra i ragazzi e gli activity leader direi che è poco Secondo me l'alternanza scuola-lavoro è una proposta molto interessante, molto al passo sui tempi Sono dettagliati molti su cui anche dal punto di vista della security, dell'assicurazione che è fondamentale quando porti dei ragazzi all'estero e anche come copertura nostra Poi adesso per l'orientamento stage scuola-lavoro sono nuovi, molto dettagliati anche quello e mi è piaciuta l'idea che anche noi docenti potremo avere uno spazio di formazione nostro cioè mentre i ragazzi studiano anche noi possiamo formarci con il nostro bonus di legge 107 In ogni caso adesso vedrò per quest'estate cosa scegliere a seconda del gruppo mirato, l'età, lavoro nel liceo e quindi cerco di portarli verso l'America se riusciamo